La quindicesima edizione di Lubec e Lucca Beni Culturali, l'incontro internazionale dedicato allo sviluppo e alla conoscenza della filiara Bene Culturali, Tecnologie e Turismo, si è aperta a Real Collegio. Per l'edizione 2019, Lubec ha puntato l'attenzione sul tema dello sviluppo sostenibile e su come patrimonio e politiche culturali siano determinanti nel raggiungimento degli obiettivi di un'agenda mondiale che impone profondi cambiamenti culturali per il bene del pianeta e lo fa proponendo un'anteprima di Expo Dubai 2020 grazie alla partecipazione del commissario Expo Italia e di una delegazione istituzionale e imprenditoriale degli Emirati Arabi Uniti che su cultura e turismo stanno investendo con impegno crescente. Oltre che importante momento di confronto, obiettivo primario di Lubec è la formazione di operatori culturali, nel pubblico e nel privato in grado di sviluppare l'impresa della cultura attraverso nuove politiche, innovazioni tecnologiche e soluzioni tecnico-operative. Siamo quasi maggiorenni, se è vero che fra un po' teranno il voto dei 16 anni, voteremo anche noi l'anno prossimo. Siamo molto contenti e in particolare perché quest'anno abbiamo con noi gli Emirati, una delegazione importante degli Emirati e che abbiamo voluto con noi per due motivi, perché l'anno prossimo ci sarà l'Expo Dubai e perché quest'anno per gli Emirati è l'anno della tolleranza, che è un tema che si sposa bene alla cultura come ponte fra i popoli. All'interno della Kermess sarà presentata un'importante innovazione tecnologica dedicata alla salvaguardia delle opere d'arte. Macchina, un acceleratore di particelle creato dall'Istituto di Fisica Nucleare dal CERN di Ginevra. La sua unicità sta nell'essere portatile, un vero e proprio cannone di protoni che cambiando l'energia possono penetrare diversi strati di un'opera d'arte ricavando informazioni importanti sia per i restauratori sia per gli storici dell'arte.